l'esperienza di un abuso affettivo è tra le più sconvolgenti che un essere umano possa provare ma bisogna capire che ciò che trapela dall'esterno non è che la minima parte di una realtà emozionale molto complessa e articolata che va osservata dall'interno considerando il mondo psicologico dei protagonisti per quanto possa apparire come il risultato di un evento fortuito in realtà ogni incontro ha le sue buone ragioni nel senso che nasce e si fonda su ciò che rimane delle relazioni precedenti nel momento in cui ci sentiamo attratti da un'altra persona ciò non avviene mai per pura casualità perché i ricordi e le tracce delle esperienze passate agiscono nel nostro mondo interiore spingendoci verso una certa persona piuttosto che un'altra le ferite ancora aperte della nostra anima ci rendono sensibili a quel volto che incarna la nostra memoria emotiva i ricordi le ombre del passato le nostre più intime fantasie e sensazioni la prima sensazione che ha la vittima è proprio quella di non poter opporre alcuna resistenza al turbinio di emozioni che la assale nel momento dell'incontro con quello che diventerà il suo carnefice o abusante o manipolatore che dir si voglia la vittima inizia da subito ad arrendersi e si lascia catturare come se fosse in uno stato ipnotico dentro di lei si attivano delle energie insospettate e bisognerebbe capire come mai si sono attivate quando prima erano inespresse è un'esperienza nuova che inizialmente fa sentire la vittima completa appagata viva dotata di una nuova forza che la fa essere dedita all'altro fino a diventare dipendente la vittima è catturata e vive un momento di esaltazione per il nutrimento emotivo che riceve finché questo rapimento iniziale con il suo vortice di emozioni diventa un po' ambiguo incontrollabile e si diventa preda e quindi schiavi si dice che l'amore è cieco e violento perché ci priva di una visione obiettiva della realtà per sfiorare il delirio e così il rapporto diventa pian piano sempre più morboso e ossessivo sprigionando immagini interiori abnormi e spropositate sotto una simile pressione i comportamenti iniziano a diventare insensati e pericolosi fino alla violenza pura e scatta l'abuso per cui l'amato si trasforma in carnefice e l'armonia diventa un incubo ora un aspetto molto comune dell'abuso e della manipolazione psicologica è che l'abusante cioè il carnefice afferma che la vittima è abusante nei suoi confronti c'è uno specifico momento in cui la vittima aggredisce il carnefice inizialmente la vittima sopporta le è stato detto che non c'è niente a cui reagire o che reagisce in modo eccessivo a tutto quindi la vittima ha paura di menzionare il suo dolore si sente confusa pertanto non può parlare di come subisce un abuso e tira avanti resiste finché ad un certo punto esplode e urla tutta la sua rabbia contro il carnefice iniziando ad insultarlo lo attacca anche fisicamente cercando di liberarsi da lui è una lotta per la sopravvivenza non sempre accade spesso la vittima è passiva ma quando reagisce il carnefice contrattacca naturalmente affermando che l'aggressione della vittima è la prova della sua instabilità sostenendo appunto che il vero aggressore non è lui ma la vittima naturalmente questo non è un dialogo costruttivo i carnefici non sono interessati ad ascoltare il perché la vittima agisce in questo modo non cercano di capire il suo sfogo si appellano all'accaduto e considerano la sua reazione come la prova di cui avevano bisogno e così passano d'accuse del tipo sei pazzo sei una bomba d'orloggeria accusano la vittima che incassa in pratica il carnefice abusante trasforma i ruoli e si dipinge come vittima ciò porta la vittima vera a credere di essere effettivamente con lei che abusa la vittima si autoconvince lentamente di essere violenta ed emotivamente instabile si sente sbagliata mentre l'abusante crede di aver fatto giustizia alimentando ancora di più il suo potere sulla vittima le vittime in genere ammettono i propri difetti credono di aver reagito male e di aver sbagliato mentre l'abusante usa questa confessione contro di loro in primo luogo per convincere la vittima di avere torto i manipolatori abusanti non ammettono di aver fatto qualcosa di sbagliato e incolpano le vittime di ogni cosa ora proverei a fare delle riflessioni critiche su queste dinamiche affettive che ormai sono molto più diffuse di quanto si possa pensare come spiega freud l'essere umano cerca nella relazione una figura materna sostitutiva e nel fare questo si protegge al fine di evitare di assumere sulle proprie spalle il carico della responsabilità della propria esistenza autonoma dietro al manipolatore di turno dietro all'abusante c'è un genitore che non ha saputo fare il genitore non ha potuto prendersi cura del figlio non lo ha confortato non lo ha cullato non ha risposto ai suoi ai suoi richiami così succede che alla base della relazione futura tra carnefice e vittima il carnefice si infatua di un altro che sembra soddisfare le sue richieste di accudimento in fondo alle quali c'è molta ambivalenza il carnefice insegue nell'altro la soddisfazione di un antico bisogno insoddisfatto che porta con sé la disperazione il pianto non verbalizzato che ora vorrebbe trovare delle parole che lo possano esprimere ma finisce per trovare rabbia aggressività l'aggressore non riesce a trovare le parole del suo antico pianto e continua a parlare un linguaggio incomprensibile finendo per non avere ancora una volta ciò di cui avrebbe bisogno in realtà tutti noi cerchiamo nella relazione conforto e protezione abbiamo bisogno di essere abbracciati prima di poter scegliere di vivere consapevolmente cioè in modo responsabile e invece spesso finiamo per vivere una dipendenza regressiva tipica ad esempio delle vittime che insieme i loro carnefici adottano schemi comportamentali nocivi poco adatti dove i difetti vengono camuffati e i fantasmi del passato continuano a condizionare il presente così accade che vittima e carnefice finiscano per cercare ognuno nell'altro proprio quelle braccia materne che un tempo però si sono dimostrate carenti abbandoniche alle quali ci si affida totalmente inconsciamente credendo che l'altro sia la persona giusta per realizzare il sogno di essere curati ma si diventa dipendenti la vittima si consegna all'altro con modalità infantili sperando in un grande amore questa è l'eziologia degli avvenimenti che costellano la cronaca di oggi dove odio e amore si mescolano sullo stesso piano perché l'uomo è fatto di contrasti l'uomo è ambivalente e duplice e sia luce che ombra insieme ma come ci ha insegnato la psicanalisi senza l'amore per se stessi è impossibile amare un altro quindi odiare gli altri significa già non rispettare se stessi nonostante ciò è fondamentale continuare ad avere fiducia nelle relazioni interpersonali non dobbiamo mai dimenticare che se esiste un segreto della felicità questo è racchiuso nel rapporto con l'altro e anche se dopo aver subito un abuso la vittima ha paura di subire in futuro lo stesso dramma proprio questa paura deve diventare una via conoscitiva perché nel timore di non essere amato o di perdere la persona che amiamo si cela anche il bisogno di comprendere le ragioni di questa insicurezza solo così si rompe la coazione a ripetere tutti quei comportamenti che ci rendono schiavi di un diabolico incastro di patologie ecco perché la psicoterapia si pone l'obiettivo di far luce sullo psichismo inconscio che orienta silenziosamente il comportamento sia del carnefice che della vittima attivando una modalità sadomasochistica di vivere il rapporto amoroso in pratica è come se si fosse attratti dalla sofferenza ma in questi casi ciò che maggiormente seduce più che la peculiarità dell'altro è la lotta con se stessi essere in lotta con se stessi significa tradire le potenzialità intrinseche alla nostra natura e così può succedere che la vittima finisca per rinnegare gli aspetti più inquietanti e spietati della sua personalità ingaggiando una quotidiana lotta con se stessa che diventa una necessità psicologica nella quale incombe lo spettro del potere il rapporto sadomasochistico tra carnefice e vittima è sempre una relazione di potere nella quale a volte capita che i ruoli siano intercambiabili e la figura del carnefice appare indistinta e sfumata perciò risulta difficile determinare quale dei due partner detenga il potere infatti la parte debole o presunta tale lega a sé il compagno apparentemente più forte mettendo in atto strategie sottili ed evitando di manifestare in maniera eclatante gli aspetti peggiori di sé in altre parole la vittima a volte non sempre si protegge dal pericolo di doversi confrontare con zone oscure della sua psiche e alla necessità di vedersi innocente perciò si convince di essere la vittima ma attenzione qui bisogna distinguere caso per caso perché ogni situazione è unica e non si può generalizzare la soluzione come al solito è sempre quella di conoscersi e la relazione affettiva se usata bene è un ottimo strumento conoscitivo bene come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube dove troverete tantissimi video come questo sui vari argomenti di psicologia potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima ho creato una pagina chiamata la mia psicologia il mio sito è www.robertoruga.it dove troverete varie pubblicazioni infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype su whatsapp su messenger oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi al numero che compare sotto nella descrizione del video oppure potete scrivermi a r.ruga chiocciolavirgilio.it in bocca al lupo